Ed eccomi qua, pronto per cominciare una nuova giornata di lavoro. Noi ci conosciamo bene, ogni giorno facciamo un sacco di pause insieme. Ah, scusate, io sono il bicchierino, come mi chiamano in molti. Prima lavoravo giusto il tempo di un caffè, ma grazie al progetto rivending le mie giornate sono decisamente più... movimentate. Sì, la sede è un cestino, però io e i miei colleghi ci stiamo molto poco. Dopo qualche giorno ci uniamo con i bicchierini delle altre sedi. Ci schiacciamo, ci maciniamo, ci facciamo una bella spa e ci asciughiamo pure. Insomma, ci rimettiamo presto in forma, così possiamo tornare subito al lavoro belli e freschi come prima. Un bel viaggio rigenerante, pensato apposta per noi. Si chiama riciclo. Così, proprio come me, ogni giorno milioni di bicchierini e palette non vedono l'ora di tornare al lavoro. Sapete che vi dico? Adesso ci vuole proprio un bel caffè. Usate i contenitori rivending e aiutate l'ambiente.